Cresce la preoccupazione tra i cittadini della provincia di Sernia a causa degli episodi di furti in abitazione avvenuti nelle ultime settimane. Caso recente a Pesche, dove è stata svaliggiata una villetta, i malviventi sono riusciti ad aprire una cassaforte portando via Denaro e Gioielli. Nel capoluogo Pentro ladri in azione in un appartamento di via Giovanni XXIII, tentativo di furto in zona San Leucio. Preso di mira anche Sessano del Molise, svaliggiate due abitazioni in piano centro. Proprio a seguito di questi due furti, il sindaco Pino Venditti aveva lanciato un appello alle istituzioni chiedendo di incrementare i controlli sul territorio. Siamo un paese di 700 abitanti, i cittadini non si sentono al sicuro anche perché la stazione dei carabinieri più vicina è quella di Carpinone e non abbiamo a disposizione neanche agenti della pulizia municipale, ha spiegato. Ma intanto i pattugliamenti dei militari del comando provinciale proseguono senza sosta sia in funzione preventiva che investigativa. Diverse le piste su cui i carabinieri sono al lavoro per risalire agli autori dei furti, che sembrano essere organizzati in più gruppi distinti. Sono di recente approvazione inoltre i progetti di videosorveglianza presentati da 21 comuni della provincia di Sernia. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato parere favorevole all'installazione delle telecamere nei centri e ora si attende il via libera dal Ministero dell'Interno.